Ciao, se sei interessato a partecipare a un corso di astrosofia per saperne di più c'è un'occasione imperdibile perché faccio ripartire da zero il mio corso online, quello che avevo iniziato a settembre, per dar modo a chi è arrivato in ritardo se ne è accorto in ritardo di poter ricominciare da principio. Il corso lo otterrò il giovedì dalle 12.30 alle 13.30 e il primo inizia il 16 di febbraio. L'ho diviso in moduli di sette lezioni per cui si può anche partecipare a un unico modulo e vedere le prime sette lezioni che sono tutte di un'ora. È scorrevole, è un corso proprio per chi comincia dall'inizio, ci sono nozioni un pochino tecniche ma spiegate nella maniera più semplice possibile e l'idea è quella di dare gli strumenti rapidamente per cominciare a interpretare il proprio tema natale e eventualmente poi diventare cimentarsi nell'interpretazione anche delle persone vicine usando proprio lo strumento dell'astrosofia e quindi diciamo che rispetto all'astrologia tradizionale c'è molta meno tecnica e molto più concentrazione sulla qualità interpretativa per cui è accessibile per tutti e spero di renderlo anche interessante e divertente. Questo lo lascio dire a chi già lo sta frequentando. Vi aspetto e se avete bisogno di più informazioni scrivete pure a info chiocciola fedros.com ciao